Where does all the light go? In musica si parla di arte. E questa signora qui, pensate, Alessia Colombo, buonasera. Buonasera! Ha dedicato, e si ritorna anche sul sociale, un brano musicale dedicato a tutte le donne, alle donne meno fortunate di tante altre, alle donne che hanno subito violenza. Un brano profondo, un brano che durante l'ultima Kermess Sanremese ha avuto un grandissimo successo. Tant'è vero che le vostre camere erano a Sanremo, avrete già conosciuto Alessia Colombo, in quel di Sanremo. Alessia, perché un brano così profondo, un brano così intenso, un brano così importante? Perché credo che le donne che abbiano avuto questo problema, ma debbano, problema, questa sfortuna, debbano sapere che si può rinascere. Io ne sono la prova vivente, ho subito violenza anch'io e sono qua, sono viva, sono felice e sorrido. Non c'è nessuno abbastanza importante da toglierci il sorriso. Senti Cara, per le telespettatrici che ti stanno seguendo in questo momento da casa, a cappella riusciamo un po', un pezzetto del brano? Sì, non ci casco, non ci casco più, tra le mani di un cretino, non ci metto il mio destino, non mi incanti, non mi incanti più. Grazie Alessia Colombo. E di più, un'ultima cosa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Grazie Alessia, grazie, grazie. Grazie a tutti.